Per noi la preghiera è il primo segno di carità per noi credenti. Raccomandiamo alla misericordia del Signore questi nostri fratelli, ma sia un momento di preghiera anche per noi. I cristiani sanno leggere in tutte le situazioni ciò che è il segno più importante. Certo non è una realtà bella, positiva, ma vogliamo il segno più bello che è quello della fraternità. La sfida più bella che il Signore Gesù ci ha lasciato è il sogno della fraternità, l'impegno della fraternità. Allora mentre preghiamo per questi nostri fratelli preghiamo anche per noi perché possiamo crescere nella sfida della fraternità. Invito tutti a recitare un Padre nostro e la preghiera che ci fa figli ci fa fratelli. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga nel tuo regno, sia fatta la tua volontà come il cielo e il tuo sinistro. Facci oggi il nostro amico che lo chiediamo, che diventi a noi i nostri segni, come noi che diventiamo i nostri debitori, che non ci giurre che non ci siamo, ma non ci siamo.